Contro l'ultimo test piemontese prima del debutto in campionato per gli uomini di Pioli. Nel campo. Quelli che non hanno giocato ieri contro i tunisini dalle SSA il Milano Novara sarà trasmesso. Diretta da Zon. Sky Sport Calco e in streaming diretta su Nao e da Zon. Textual Chronicle Gazzetta. Attraversato dalla destra di Buric. Chiari interviene Dirty al centro della zona e in pratica libera da un tiro corto. Tuttavia lasciato completamente solo dalla difesa di Rossoneri Mirante, ha anticipato e Novara in. Porta. Dopo due minuti di recupero Gualtieri fischia la fine di una prima metà discreta per Milano. Eccellente la prima mezz'ora. Con una grande pressione che poi svanisce e lascia spazio per alcune smagliature difensive già. Viste in questa prestagione. Primo gol per Rossoneri per Chakueze e Okafor in evidenza. In particolare. L'esterno nigeriano. All'interno tra Oree e Zeroli per Chakueze e Musa. Eccellente coordinamento e grande gol sul volo sinistro per Colombo. È il quarto gol di Rossoneri. Dopo due minuti di recupero. Il test tra Milano e Novara si chiude. Un secondo tempo ha giocato su ritmi comprensibilmente meno intensi del primo. In cui ha continuato a evidenziare Chakueze. La fase difensiva di Rossoneri è confermata come un obiettivo precario e bello di Columbus. La partita AC Milan si trova questa mattina a Milanolo contro Novara l'ultimo test amichevole prima. Del debutto in campionato. In programma a Bologna lunedì 21 agosto. Come la scorsa settimana. Pioli ha strutturato il fine settimana con una doppia amichevole nello spazio di 24 ore. Iesterdei. Sempre a Milanello. Il diavolo ha superato 40 Thessail. La squadra campione della Tunisia. Con una tripletta di Loftus Cic e una penalità di rigore. Questo è il proprietario di ieri Maugnan. Kalulu, Tio, Tomori, Hernandez, Loftus Cic, Krunic, Reinders, Pulisic, Giroud, Leao. So oggi spazio per coloro che non hanno giocato o giocavano poco contro i tunisiani. 10 e 30 del mattino.